Un AWL formato play-off vince e convince contro Varese intascando la sesta vittoria in campionato salendo al quinto posto in classifica. 101-93 è il punteggio che appare sullo schermo luminoso al termine di un'ottima prestazione degli uomini di Cocherepegia, che davanti al calore del pubblico di Pesaro sono tornati a gioire dopo l'ultima amara sconfitta arrivata sul campo di Trento. Buonissime le prove di Cittam e Moretti, che dopo la sirena finale sotto la casella punti appare il numero 22 per entrambi. 17 invece quelli messi a referto da Mazzola. Dopo la penultima apparizione dell'anno alla Vitre Frigo Arena, domenica prossima i biancorossi saranno attesi sul parquet di Verona per cercare di chiudere al meglio questo 2022. Un anno in cui dopo tanti campionati deludenti il ritorno ai play-off dieci stagioni dopo ha saputo riaccendere di entusiasmo l'ambiente. Entusiasmo che invece faticano ad avere tifosi della Vis, reduci dall'undicesima partita consecutiva senza vittoria da parte della loro squadra. Tre punti che mancano da oltre due mesi e che non sono arrivati nemmeno sabato pomeriggio la prima in panchina di Brevi, quando sul manto erboso, disastroso del Benelli, è arrivato il Cesena. Al 1-0 di Fedato, arrivato al 22esimo del primo tempo, ha risposto Corazza dieci minuti dopo, mandando le squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Al 67esimo della ripresa il Cesena la ribalta definitivamente, passando in vantaggio col gol di Spendi, relegando la Vis ad una sola posizione della zona play-out e a tre punti di vantaggio dall'ultima in classifica. Classifica che dopo 15 giornate sorride, nonostante il pareggio, all'Alma Juventus-Fano, appaiata al settimo posto ad un solo punto dai play-off. 1-1 il punteggio finale dopo 90 minuti giocati al Mancini contro Cinza e al Balonga, con i granata raggiunti a dieci minuti dalla fine da una rete dubbia dei laziali, che ha pareggiato il vantaggio iniziale firmato da Drolet. Passando al calcio a 5, l'Ital Service Pesaro si regala l'ottavo titolo in altrettanti finali, disputate alzando al cielo la Supercoppa italiana. Trofeo agguantato al termine di un rocambolesco 4-3, arrivato sul parquet di Genzano contro l'Olympus Roma. Torna al successo invece la Megabox Vallefoglia, che dopo cinque partite senza vittorie ritrova il sorriso contro Perugia, imponendosi per 3-7 a 0. Importanti due punti ottenuti al Palacarnaroy di Urbino, che di fatto allontanano le Tigri dalla zona retrocessione. Vittoria ritrovata anche dalla Fiorini Rugby Pesaro, che chiude il 2022 del Toti Patrignani, sconfiggendo Perugia per 29-12.